...nello nazionale di organizzare medici sospesi e non sospesi, infermieri sospesi e non sospesi, operatori sanitari, perché qui i medici ufficiali non vanno a fare le visite domiciliari. Non facendo queste visite la gente finisce in ospedale, questa è la verità, perché non ne abbiamo assolutamente bisogno e noi dobbiamo veramente organizzare perché ci sono medici onesti e seri e io vi garantisco che da quando sono raggiato mi ho conosciuto a centinaia e sono certo che presto riusciremo a organizzare questo servizio sanitario alternativo. Ma tutti questi operatori sanitari devono essere tutelati e dobbiamo insegnarci tutti ad abbracare tutte le parti professionali.